Attrazioni, divertenti sketch, testimonianze, ecco alcuni degli ingredienti essenziali della manifestazione arriva la Befana, festa del poliziotto. Giunta all'ottava edizione, accolto all'Osi Park di Roma, l'evento viene organizzato da CONSAP, ovvero la Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia. Proprio la polizia è la protagonista dell'appuntamento, con agenti e volanti a disposizione dei più piccoli. La festa si concentra sul palco raggiunto da tanti ospiti, come la cantante Ari e i giornalisti Jimmy Ghione e Antonio De Bartolo. Grande l'emozione dei presenti al momento dell'arrivo di Federico Ielapi, reduce dall'interpretazione di Pinocchio nell'omonimo film di Matteo Garrone. Mi emoziona l'aver lavorato con questi grandi nomi, con queste grandi celebrità del cinema italiano, internazionale e di tutto il mondo. Pronta a rispondere alle tante domande a lui poste, Federico ritira sia un regalo speciale, sia il titolo di ambasciatore delle buone azioni, ideato appositamente dalla segreteria provinciale e del sindacato di polizia. Pensando proprio alle buone azioni, l'attore classe 2010 dice la sua. Obedire a quello che ti dice la mamma o il papà, oppure fare le cose rispettose e tenere i piedi per terra. Queste qua sono delle buone azioni, secondo me. Dopo diversi giri in giostra, incontri ravvicinati con supereroi e foto insieme a simpatiche mascotte, il giovanissimo pubblico corre a ritirare le mancabili calze consegnate proprio dalla Befana.